Dopo i 50.000 che si sono riversati in Piazza Duomo sabato sera per assistere al concerto di Radio Italia e i quasi 30.000 che il giorno dopo si sono trovati a festeggiare la vittoria dello Scudetto del Milan, il ruolo centrale delle piazze torna a far parlare la politica dal botta e risposta tra il leader della Lega Matteo Salvini e il sindaco di Milano Beppe Sala alla risposta della consigliera PD Carmela Rozza all'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Riccardo Decorato che ha criticato l'utilizzo di Piazza Duomo per eventi simili che richiamano migliaia di persone. Il Duomo non può essere una location per concerti come quello di Radio Italia di sabato, ha infatti commentato l'assessore, concerto che ha richiamato decine di migliaia di persone. Già alle 18 la piazza era piena e non poteva più accogliere spettatori ma la continua affluenza di giovani ha provocato risse e malori. Il sindaco Sala avrebbe dovuto proporre agli organizzatori di scegliere lo stadio per un evento di questa portata. Il commento però non è piaciuto alla consigliera democratica Carmela Rozza che ha voluto lanciare un monito solo facendo vivere le piazze questi luoghi potranno tornare ad essere davvero più sicuri. Il guaio è che con Decorato e Lamoratti per anni in Piazza Duomo non si fece nulla e poi impiegammo altrettanti anni per riconquistare la piazza per feste di Capodanno serene e in sicurezza. Certo, questo Capodanno ci sono stati gravissimi episodi di violenza contro delle donne, questo sempre dovuto al fatto che avevamo chiuso la piazza per due anni. I luoghi vanno vissuti, le piazze vanno vissute se si vuole sicurezza, se i cittadini vivono i luoghi la sicurezza aumenta, quindi Piazza Duomo deve essere impegnata ad altri concerti ed è importante anche offrire momenti di svago gratuiti ai cittadini. Ma dall'altro lato gli eventi in Piazza Duomo dividono anche i partiti politici della stessa area. Se infatti Fratelli d'Italia con Decorato ha voluto sottolineare la sua contrarietà ai grandi eventi in Piazza Duomo, dall'altro lato invece la Lega con Matteo Salvini ha accusato il sindaco di Milano Beppe Sala proprio perché non aveva fatto allestire in Piazza del Duomo un maxischermo affinché i tifosi potessero seguire da lì la partita. Il sindaco Sala non è riuscito ad autorizzare il maxischermo per Milano per evitare assembramenti, ha commentato infatti Salvini e poi però c'è stato uno straordinario concerto con decine di migliaia di persone in Piazza Duomo, mettiti d'accordo con te stesso. La risposta del sindaco non tarda ad arrivare, non sono riuscito ad autorizzare il maxischermo perché nessuno ne ha fatto richiesta, molto semplice. Il concerto di Radio Italia invece è stato autorizzato perché una radio ha preso formalmente e sostanzialmente l'iniziativa altrettanto semplice, ha concluso poi il primo cittadino.